Ben ritrovati a tutti da Edoardo Ferrara di trabimetro.com a questo aggiornamento sulle tendenze a medio e lungo termine. In questa sede ci concentreremo in particolare sul periodo che va dal 22 al 25 aprile e quindi l'ultimo weekend di questo mese e partiamo da una panoramica a livello europeo che vede l'alta pressione distesa lungo i paralleli mediterranei mentre l'Europa centro-settentrionale continuerà a rimanere influenzata da una circolazione di bassa pressione centrata sulla Scandinavia ma con minimi secondari anche tra isole britanniche e Francia. In questo caso quindi potremmo essere interessati da correnti umide sud-occidentali che manterrebbero attiva una certa variabilità al nord mentre al centro-sud dovrebbe risultare bel tempo stabile. Ma entriamo proprio nel dettaglio appunto dell'Italia, lo vediamo meglio quanto detto, vedete appunto correnti d'aria umida da ovest sud-ovest richiamata da quella vasta circolazione ciclonica sull'Europa centro-settentrionale con quindi tempo piuttosto variabile al nord associato a qualche pioggia temporale comunque alternato a delle parentesi asciutte e soleggiate. Tempo invece più stabile al centro-sud con al più qualche annuvolamento lungo versanti tierrenici la Sardegna e al più isolati rovesci sulla penino centrale. Il tutto in un contesto termico mite soprattutto al centro-sud qualche grado in meno invece al nord. Da valutare poi la possibilità che questo fronte umido e di stabile possa scivolare anche verso il centro-sud entro la fine del mese. Ma per tutto questo e gli ulteriori aggiornamenti vi rimando come di consueto al sito trabimetro.com